Purtroppo la Liguria è ancora martoriata dal maltempo, per questo motivo la Lega Nord che cosa chiede per gli alluvionati? La Lega Nord per gli alluvionati chiede che il governo una volta tanto si comporti come si comporta il buon padre di famiglia. Lo Stato italiano è sempre stato vessatore, è sempre stato attento nel richiedere il pagamento delle tasse, è sempre stato attento alle scadenze anche nel pagamento di quanto dovuto. In questo momento in cui i cittadini, i Liguri ma anche pensiamo alla Toscana, pensiamo in queste ore anche a Lombardia, Piemonte e Veneto si trovano in situazioni di estrema difficoltà, situazioni in cui in alcuni casi si è perso tutto, situazioni in cui imprese, non solamente dei privati ma le imprese rischiano di chiudere a causa appunto del maltempo, a causa di quello che è successo e che vediamo nelle immagini dei telegiornali quotidianamente chiediamo allo Stato italiano di mettersi una mano sul cuore, soprattutto sulla coscienza e una volta tanto mettersi dalla parte dei cittadini. Il blocco del pagamento delle tasse, di tutte le tasse che vengono richieste quotidianamente appunto a tutti i cittadini italiani chiediamo appunto questo blocco in modo da permettere a tutti di potersi rialzare e poter ripartire. Soprattutto le imprese, lo ripeto, non si può chiedere a un'impresa che in questo momento è chiusa e non sta guadagnando nulla non si può chiedere delle tasse su quanto non si sta guadagnando e non si sta lavorando e quindi riteniamo impensabile che si vada in quella direzione. Lo chiede la Lega Nord, lo chiede ad alta voce e speriamo che almeno questa richiesta venga supportata e venga appoggiata anche dagli altri partiti politici.